Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in primo piano partendo da Catania. La Polizia di Stato è stata impegnata in una vasta operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Etnea su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo con elevati tassi usurari ai danni di persone in precarie condizioni economiche. Ai prestiti, generalmente di piccoli importi tra i 1.000 e i 2.000 euro, venivano applicati tassi usurari fino al 490% annuo, rate pagate settimanalmente o mensilmente dietro minacce e appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini. Nelle prossime edizioni di Spazio Notizia vi forniremo ulteriori dettagli su questa importante operazione della Polizia di Stato. Cambiamo decisamente argomento, restiamo però a Catania, parliamo di una denuncia, in questo caso effettuata dai carabinieri. Si tratta di un uomo che aveva rubato una bice elettrica nei pressi del Tribunale ma è stato incastrato da un video girato da un passante. Per lui, come detto, la fuga è durata davvero poco. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, con la collaborazione dei colleghi della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, hanno denunciato un pregiudicato per reati contro il patrimonio un 49enne originario del quartiere San Cristoforo, poiché è ritenuto responsabile di furto aggravato di una bicicletta elettrica parcheggiata dinanzi al Tribunale di Catania. In particolare, lo scorso venerdì di 12 maggio, un video realizzato con un telefonino da un passante, divenuto poi virale sui canali social, ha immortalato il malvivente che, approfittando dell'ininterrotto via vai di gente di una tipica mattinata infrasettimanale presso il Palazzo di Giustizia, in pochissimi secondi è stato in grado di tagliare le due catene metalliche antifurto applicate dal proprietario sul telaio della bici, allontanandosi quindi con assoluta indifferenza. L'azione criminale, tuttavia, è rimasta impunita per brevissimo tempo, poiché i militari dell'arma, in meno di 24 ore, grazie all'ottima conoscenza degli ambienti criminali cittadini, sono riusciti a individuare e rintracciare il colpevole. In seguito, infatti, all'esame delle immagini consegnate dopo il furto dall'autore ai carabinieri, questi ultimi da subito hanno avviato una catuillare attività info-investigativa, ricercando un soggetto con dei tatuaggi particolari che rispondesse alle fattezze fisiche dell'uomo ripreso nel video. In poche ore i carabinieri, dopo una serie di riscontri e accertamenti, hanno quindi scoperto il ladro, bloccandolo presso la sua abitazione nel popoloso quartiere di San Cristoforo, mentre sono tuttora in corso le indagini che stanno stringendo il cerchio attorno ai canali di ricettazione e al mercato illecito di bici elettriche, al fine di recuperare il mezzo rubato, verosimilmente, su commissione. Da Catania a Palermo parliamo in questo caso dei controlli approfonditi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nel quartiere Vuciria. Sono scattati sequestri e sanzioni. Vediamo perché nel servizio. La Polizia di Stato, nell'ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, disposti dal questore della provincia di Palermo, ha effettuato capillari e serrati controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l'abusivismo commerciale attraverso accertamenti di natura amministrativa con contestuale controllo su strada di possibili avventori, all'accertamento della presenza ed eventuale sgombero di manufatti presenti sul suolo pubblico, solitamente funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande privi di alcuna autorizzazione e a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere. L'obiettivo, come sempre, è quello di affermare la presenza dello Stato in quei quartieri segnati da degrado e criminalità, restituendo al contempo il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano. Sotto la lente di ingrandimento, i luoghi della Movida e i centri di aggregazione giovanili del quartiere Bucciria, dove, per i settori di competenza, nel corso delle suddette attività sono state schierate consistenti aliquote di unità operative dei commissariati di pubblica sicurezza, centro, oreto e libertà, della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine, del reparto mobile, del gabinetto regionale di polizia scientifica, della questura, unitamente, anche in ottica di sicurezza integrata, a personale dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale. In tale contesto sono stati posti sotto sequestro a carico di ignoti e ritirati da personale della RAP alcuni banconi a rotelle in metallo e legno assemblati accuratamente per un trasporto celere, provvisti di installazioni luminose, faretti e neon e con al seguito impianti refrigeranti utilizzati per la mescita di alcolici. Durante le attività di accertamento, equipaggi interforze hanno assicurato una cornice di sicurezza adeguata lungo le aree dei controlli presidiando le vie d'accesso. A conclusione dei servizi sono state identificate 70 persone, controllate 36 vetture ed elevate 7 sanzioni ai sensi del codice della strada. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane. Un arresto per furto di energia elettrica è stato invece effettuato dai carabinieri a Paceco. Nella Trapanese si tratta di un soggetto che alimentava la propria abitazione ma anche la sua officina attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato per il reato di furto aggravato un pregiudicato del posto classe 57. I militari dell'arma, unitamente a personale specializzato in forniture di energia elettrica, hanno constatato il presunto furto di energia elettrica a seguito di un'accurata ispezione. Dalla verifica sarebbe infatti emersa l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica in grado di alimentare sia all'abitazione che l'officina dell'arrestato. I tecnici stanno accertando l'ammontare dell'energia presumibilmente sottratta illegalmente. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, su provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Trapani, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Notizia da Adrano, nella Catanese, dove la Polizia di Stato ha invece denunciato due fratelli, due pregiudicati, entrambi per il reato di evasione. Vediamo il servizio. Il personale della Polizia di Stato del commissariato di Adrano ha denunciato per evasione due fratelli, uno di 46 anni, in regime di detenzione domiciliare, poiché sta scontando la pena per i reati di atti persecutori e lesioni, l'altro di 44 anni, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto uno degli autori, pochissimi giorni fa, del furto di monete prelevate da un distributore di bevande installato all'interno di un istituto scolastico. Proprio a seguito della sottoposizione agli arresti domiciliari di quest'ultimo, sono sorti problemi di convivenza sfociati in una violenta lite tra i due fratelli, uno dei quali, il più grande, è stato scaraventato a terra riportando una lieve ferita alla testa. L'uomo ferito è stato accompagnato in ambulanza presso l'ospedale di Biancavilla per ricevere le cure del caso, dopodiché, senza alcuna autorizzazione, ha lasciato il nosocomio senza avvisare la polizia, che informata dell'accaduto lo ha rintracciato mentre percorreva a piedi un viale di Biancavilla. Nel frattempo il fratello minore si era recato, anche lui senza alcuna autorizzazione, presso il commissariato di polizia per manifestare il suo forte stato di preoccupazione dovuto all'imminente rientro della fratello maggiore. I due hanno quindi violato le prescrizioni imposte loro dalle rispettive misure, pertanto sono stati denunciati per il reato di evasione per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni. Restiamo nel Catanese da Adrano, ci spostiamo però virtualmente ad Aci Sant'Antonio dove i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto due giovani pusher. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Due spacciatori accesi di 25 e 23 anni sono stati arrestati per detenzione spaccio di stupefacenti dai carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio durante un'attività di controllo del territorio congiunta con la stazione carabinieri di Aci Reale. I due giovani adoperavano come base operativa l'abitazione di uno dei due protetta da un pitbull, quindi si spostavano per rifornire di droga i clienti anche a domicilio. Sono stati però notati dai militari mentre cedevano ad una coppia in scooter un involucro di carta stagnola e quindi repentinamente fermati e controllati. Anche gli acquirenti che avevano appena acquistato una dose di marijuana sono stati bloccati e denunciati per aver acquistato sostanze stupefacenti. Dopo aver perquisito sia i pusher che gli acquirenti, i carabinieri, dopo aver neutralizzato il molosso che è stato ristretto in una zona del giardino, sono entrati nel covo dei pusher e sul tavolo della cucina hanno trovato un barattolo di vetro contenente 36 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a rotoli di carta stagnola e forbici. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche alla dimora dell'altro pusher, presso la quale i carabinieri hanno rinvenuto una busta in plastica contenente 21 dosi di marijuana confezionata con carta stagnola e altra marijuana sfusa del peso complessivo di 60 grammi, oltre ad un bilancino di precisione. I due ragazzi arrestati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati ristretti ai domiciliari e in seguito sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parliamo adesso di sport, di un grande evento sportivo che per la prima volta arriva in Sicilia e ci racconta tutti i dettagli. Lucio Di Mauro, sentiamolo. Tutto pronto per l'evento sportivo dell'anno in Sicilia ACI Atletica 2023, campionati italiani individuali Master Outdoor. La più importante manifestazione di atletica leggera rivolta agli atleti over 35 in programma per la prima volta in Sicilia venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 presso lo stadio ACI e Galatea di ACI Reale, organizzata e promossa dal Goal and Brain di Giorgio Belluomo, sotto l'occhio attento della FIDA nazionale, in collaborazione con il comitato locale costituito dal comune di ACI Reale e dai comuni di ACI Castello, ACI Catena, ACI Sant'Antonio, unitamente a diverse associazioni sportive del territorio. Sarà ordinario il lavoro e grande impegno del responsabile organizzativo Gianfranco Belluomo. È un evento importante, la quarantese in edizione è la prima volta che viene espletata in Sicilia e abbiamo veramente lottato per ottenere che la FIDA nazionale ci concedesse l'organizzazione di questo evento importante, il più importante del territorio di Giorgio Master, dove all'interno di questa manifestazione ci sono circa 20 discipline olimpiche che variano dai salti, salto in lungo, salto di ripro, salto con l'asta, salto in alto, ai lanci, giavellotto, peso, martello, lancio del disco e così alle corse, dalla velocità ai 100 metri, ai 200, ai 400, agli ostacoli e al mezzofondo con 800.500, 5.000, 2.000 e 3.000 siepi. È stata un'ardua impresa e per questo ringraziamo tutta l'amministrazione comunale perché ha dato l'anima affinché questo campo, diciamo il terzo in Italia, perché è un campo che sarà omologato World Athletic e quindi capace di poter ospitare eventi nazionali ed internazionali. Quindi tutta la giunta, il sindaco in testa, gli assessori, l'assessore allo sport Fabio Mangiagli, così come l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Raciti, il RUP che ha gestito i lavori che è veramente stato sempre presente affinché tutto procedesse nel miglior modo possibile. Questa manifestazione dà un impatto enorme nel nostro territorio, verranno migliaia di persone dai 35 anni in su ed è un fiore all'occhiello per la nostra Sicilia. Presenti alla conferenza, oltre allo stesso Belluomo, il sindaco di Aceriale Stefano Ali, Giorgio Belluomo, presidente Goal and Brain, e i vertici dell'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, regionale e provinciale, che non potevano mancare a questo importante evento sportivo, Gaetano Rizzo, Antonio Foti, Daniele Loporto e Giuseppe Di Bella. La conferenza stampa, che si è svolta nella sala stampa del comune di Aceriale Gremitissima, è stata aperta da una fantastica esibizione di Silvana Mangono Ballet Group. Servizio Hostess, invece, è stato offerto dall'agenzia Moodlike di Gaia Furnari. È tutto, ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie. 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 Grazie.